Io voglio ringraziare prima di tutto Mondo Digitale perché ci ha fornito questa occasione per fornire ai nostri volontari e soci l'aiuto di questi giovani abili nell'usare, che per noi anziani sono tecnologie infernali, ma insegnare agli anziani a usare almeno lo smartphone. In modo che possono utilizzarlo anche per mandare dei messaggi, Whatsapp, eccetera, eccetera. E poi, non dico proprio tutto e tutto, ma usufruire di molte possibilità che fornisce lo smartphone stesso. Quindi il fatto che poi l'uso di questo smartphone venga spiegato agli anziani da parte di giovani, la cosa ci rende molto molto felici perché crediamo nell'intergenerazionalità e crediamo che i giovani possono dare molti contributi agli anziani perché hanno bisogno.